buongiorno a tutti oggi siamo al 21 di luglio e vi voglio mostrare una pesca che già ho fatto un altro video in passato quando era ancora più piccolina la pianta ma che quest'anno ha dell'incredibile innanzitutto guardate il colore il profumo è creata da seme quindi per chi avesse ancora dei dubbi da seme viene una pianta che poi non è buona bisogna innestarla io penso di avervele tirati tutti questi dubbi no comunque questa è la mary evelyn guardate qui una pesca che ho fatto qualche anno fa riprodotta da un seme di una pesca da supermercato che era pasta bianca non ha mantenuto assolutamente le caratteristiche nonostante che sia pasta bianca però e queste sfumature comunque non le aveva guardate qui è solo proprio tagliata per farvela vedere una buona pezzatura più o meno ne ha fatte il doppio di pesche già ne ho mangiate abbastanza le ho raccolte tre giorni fa qualcuna vabbè era toccata dall'insetto e l'abbiamo mangiate subito ma guardate qui che meraviglia io vi dico che proprio un sapore meraviglioso incredibile profumatissima non so più cosa dire nei miei video perché penso di aver già detto abbastanza una cosa che vi dico provateci anche voi e fate i vostri sperimenti una volta che ottenete quelle due tre varietà vostre che vanno bene a casa vostra basta e poi potete riprodurre sempre loro da seme io adesso anche se l'ho già assaggiata vado di nuovo alla prova dell'assaggio buonissima ma veramente buona anche po di liquido mi raccomando provateci anche voi pesco da seme meri eveli buona giornata a tutti vi voglio bene ciao ciao